Vieni già qui 25 anni fa per rigodermi la deposizione e fui talmente colpito che iniziai a lavorare su una grande scultura. Questa ciclicità tra la vita e la morte, questa vibratilità di presenza di gesto che lui ha veramente rappresentato con grande magnificenza. Tutti pazzi per Giovan Battista di Jacopo di Gaspare, detto il Rosso Fiorentino che si firmava a Rubeus e in particolare per il suo sconcertante capolavoro alla deposizione custodita nella Pinacoteca di Volterra. A 500 anni dalla realizzazione di questo vertice del manierismo, nel chiostro della Pinacoteca si è aperta una mostra di sculture contemporanee, Rubeus etali, Rosso e gli altri, ispirate alla celebre pala, stimolata e stimolante a trasposizione dal pittorico al tridimensionale. All'esterno di Palazzo Minucci Solaini è un monumentale marmo di Elena Mutinelli, all'interno le grandi terracotte policrome di Ugo Riva, fra cui il gruppo Solitudine, opera che l'esperienza della pandemia spiega Riva, ha caricato gli ulteriori significati. Tutti pazzi per la deposizione del Rosso, sì, oggi scultori e galleristi come l'organizzatrice dell'evento Francesca Sacchi e Tommasi, in passato da affinati cineasti come Pierpaolo Pasolini, che ne realizzò un tableau Vivani insieme devoto e dissacrante nell'episodio La Ricotta di Logopag, ma anche storici dell'arte come Antonio Natali, già direttore degli uffizi e curatori della mostra assieme ad Elisa Gradi, o critici d'arte come Vittorio Sgardi, chiamato a presenziare all'inaugurazione. Mi conosce e sa che non cambierei dieci botticelli per la deposizione di Volterra, per me insieme alla deposizione del Pontormo è il più importante dipinto di tutta l'arte occidentale e di tutti i tempi. È un'opera stratta, cubista, surreale, allora da quell'opera si può immaginare un rapporto fra i classici e i contemporanei. E di fatti Rubeus et Ali.